Caurica, mi ha fatto molto piacere dire che... Anche a me Bruno, quando vieni a Milano sei sempre ben accolto Bruno! Viva Rai, quante battaglie nei corridoi Poveri noi, se non si mettessero d'accordo alla Rai Paghiamo allora questo abbonamento Per mantenerli in salute il sentimento Perché oramai... Ancora qua a Milano E ancora lei con me, non hai niente di me Perché noi la paghiamo, lei è ricco, grazie agli abbonati Rai Lei è ricco, grazie agli abbonati Rai E non fa servizio pubblico, io la ritrovero per questo Certificato dal fatto quotidiano, giornale spero a lei è ricco Lei è ricco, costo 1,94 Prima faceva favore alla DC, suo azionista di riferimento Stiamo dialogando, sta davvero, va bene, grazie, arrivederci Adesso fa propaganda per Dermosconi Lei è ricco, tra l'altro, facendosi pubblicità gratis per i suoi libri Allora sono i cittadini, vai a catturare i del... Mi hai fatto parlare È una tua concessione Ragazzi, fate delle brutte figure, come ti chiami? Sei un poliziotto? Sì Come ti chiami? Va bene così Ha paura di dire il suo nome Va bene così Fai vedere il tesserino, allora sei un poliziotto Non è la poliziotto Vespa Vespa, lei si è commosso per il terremoto dopo un anno di propaganda Avete fatto una fiction sul dolore delle persone Ma chi sei? Chi sei? Ma chi sei? Ma tu chi sei? Di chi sei in telecamera? Hai paura del tuo nome? Io non ho paura E allora? Io mi chiamo Piero Ricca Tu come ti chiami? Sei un poliziotto? Sì Ognuno è il tesserino? E allora non ti considero Ma tu qua dentro, non mettermi le mani addosso Se vuoi parlare con me, ti presenti È finito il gioco Siamo cittadini, siamo i vostri datori di lavoro Se siete poliziotti Il gioco è finito Le mani addosso, via Siete i nostri dipendenti Siete i nostri dipendenti Il corpo del cittadino per voi deve essere sacro Se no siamo nell'Italia servile Sempre l'Italia fascista Io voglio parlare con Vespa Dottor Vespa Siamo una decina di abonati rai Dottor Vespa Lei fa pubblicità gratis ai suoi libri Sul servizio pubblico Vada da Fazio che la fa meglio di lei Vada da Fazio Fa pubblicità gratis Io critico lei Non può dire siamo tutti i menti delinquenti Allora, riassumo per tutti voi Ma si vergogni lei Si vergogni lei Perché lei è diventato ricco Grazie al servilismo giornalistico Attraverso il servizio pubblico Che avete privatizzato ormai da tanti anni Allora, riassumo i punti della mia critica Se i poliziotti mi lasciano in pace Uno, sfruttamento del servizio pubblico A fini pubblicitari Due, speculazione sulla tragedia e il dolore Anche dell'Aquila Tre, gossip sulle tragedie Oscenità Oscenità pornografica Sulle tragedie Da Cogna Da Cogna Da Vetrana Riassumo i punti State fermi per una volta Dai Questo è un atto di democrazia Il cittadino che si ribella A prepotenza e l'arroganza State fermi Il corpo del cittadino è sacro Andate dai delinquenti Dovete essere fermi Fermi Immobili Come stiliti Fermi Mi fai proteggere dalla Dicos di Milano Quando uno viene a cantare Bruno Messa il brunetto Allora Allora io adesso vengo lì Dopodiché questo signore Ma cosa fa? Ti sto criticando Sentiamo cosa c'è Lei non mi tocchi sull'Aquila Va bene? Perché la mia città è stata distrutta La propaganda chi l'ha fatta? Chi l'ha fatta la propaganda? Io per costruire la mia città Vallo a chiedere agli Aquilani Fermi Ma che cosa ne sai? Vallo a chiedere agli Aquilani Ma basta Vai a vedere 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 Vai a chiedere se gli Aquilani Come mi consigliano L'ha fatto il tuo amico Silvio Hai capito? Sì vai un po' L'Aquila poi Silvio Vai col tuo amico Silvio Adesso arrivederci Va bene Perché la libertà La libertà non è soltanto tua Lei fa parte di un'oligarchia La libertà è anche mia Di un'oligarchia 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 Vai da faccia Facili la pubblicità Hai capito? Lei è un oligarchia Un propagandista Sta crollendo Sta crollando Sta crollando Il posto del civile Hai capito? Perché è chi crollerà Sulla testa Contro la costruzione Speculatore Sulla tragedia Vattene via Propagandista di governo Vai all'Aquila Vai alla vedere Le tragedie Hai capito? Hai capito? Nulla facente Nulla facente Vergognati Vergognati Via Corpo del cittadino Per voi È sacro Non lo picchiamo Non lo picchiamo Ti devo ringraziare Perché non mi picchi Ma tu chi sei? Ma tu chi sei? Chi è? Voi chi siete? Non lo picchiamo Si vergogni Si vergogni Le vado a vedere le altre Si vergogni Ma capito? Vada da Santoro E vada a chiederti Quanti miliardi Abbiamo avuto da Berlusconi Io commendo A Berlusconi i soldi Con questo libro A Berlusconi Io i soldi li do Capiste? Li do Con questo libro A Berlusconi Ha capito? Vada da Santoro E vada a chiederti Quanti miliardi Ha guadagnato con Berlusconi Non è stata una media Si vergogni Stiamo ribellando Al regime Della propaganda Vada a cagare Lui fa tanto Non è stata una media Si vergogni lei Capito? Si vergogni lei Si vergogni lei E' una guadagna 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 Aiuta la Bruzza E' un tipo di amici Abruzzo 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 Di tasca Di tasca mia Sei coinvolgato Tenga sulla mia E' una guadagna Di mie Spergognatevi, vergognatevi, vergognatevi, vergognatevi. Silvio! Salutalo! Non sospende il passamento delle tasse, sarò io! Bruno, ma non avete fatto uno show di un anno sulle macerie? No? Invece nessuna puntata sui rapporti tra il tuo amico Silvio e i boss di Cosa Nostra? Eh? Come mai questa reticenza? Tante puntate sullo show di Berlusconi all'Aquila? Nessuna puntata? Invece, Bruno, parliamo un momento anche della speculazione sul dolore. Da Cogne ad Avetrana. Bruno! Oppure parliamo dell'attività di giornalisti. I giornalisti costruiscono le interviste e le puntate su misura. risulta la nostra intercettazione telefonica. In questo fanno gli giornalisti. Abbiamo costruito una trammissione su misura. Ti ricordi Bruno? Probabilmente non ne la faresti più adesso. Eh no, perché adesso è diventato un nemico di Silvio. Eh? Ma quando crolla Silvio ti riposizioni ovviamente, no? Un'altra volta. È una vita che ti riposizioni. Eh? Da Piazza Fontana, ti ricordi cosa dicevi al Tg1? Sì. Una vita a usare la RAI contro il diritto costituzionale dei cittadini a conoscere e per deliberare. Siamo qui a rimproverarti, a esercitare la nostra sanzione reputazionale. È ora di finirla. È l'abitudine al tappeto rosso, ai soldi, al potere, alle luci. Bruno Vespa, il giornalismo è un'altra cosa. Il servizio pubblico è un'altra cosa. Quante volte vai in RAI a farti pubblicità gratis per i tuoi liberi? Vivi nel privilegio. Te la faccio, va bene. Anche faccio, anche da faccio, vuoi andare. Ma non dovete andare a pubblicizzare i vostri libri, nessuno ci deve andare. Soprattutto se, in modo smodato, così smodato, eh? Ah, eccolo lì, poverino. Abiti in TV e in radio a farti pubblicità. Quando hanno contato sulla P3, Vespa? Sui rapporti tra Bellutri, Verdini, l'ex fiduista Carboni? Vogliamo farle un po' di inchieste serie, Bruno? Ci sono le notizie, basta sceglierle. Non c'è solo Avetrana e Cogne, eh? O vuoi continuare a fare inchieste sulla Avetrana e su Cogne? Eh? Lo sai che Berlusconi è indagato per strage a Firenze, lo sai? Berlusconi è indagato per strage al capo del governo. Lo sapete? Bruno, ma parlare del processo Dellutri nei dettagli? 30 anni di rapporti fra mafia, impresa e ora politica? Ne parliamo? Oppure un'intervista a Stefania Riosco che è un po' che non la vediamo più. Stefania Riosco, io ho i contatti se vuole. Bruno, i cittadini vogliono sapere. Bruno, se non ti puoi far assumere da Silvio direttamente nell'ufficio propaganda. Eh? Eh, ma vai anche tu, vai anche tu. Vai nell'ufficio propaganda di Mediaset. Una puntata sulla biografia di Spatuzza. Ciao Ricca, mi ha fatto molto piacere lì. Anche a me Bruno, quando vieni a Milano sei sempre bene accolto. Paghiamo allora questo abbonamento per mantenerti in salute e in sentimento. Perché oramai questo cervello avrà un padrone, lo sai. Viva la RAI!